La Capità Capitano ancora proprio a me E un punto come i grani son finì Qualse è pens che guadagnere le si gaye E resto senza fiar ma insomma Lei comincia a comprare nel forestarà E l'arrole terrestre all'intiuga E lei perde una frase e connessione, e perde anche la ragione. Lei è riuscita come un'anà, senza mai aver pensato, perché lei mantiene tutta la famiglia. Ad esempio, altri riusciti faranno una posizione, all'è vera, lei va insieme al barone. L'età c'è un momento, è un grosso investimento, sono fidati e cercando per un'agenzia. C'è un momento che mi diceva che arriva a una certa età, e la piazza è lenta, è avuto un'anà. E in questo momento sono spariti, è la storia che ti dico, è la storia quando i grani sono finiti. La caldità non è ancora per me, e un punto come i grani sono finiti. Se pensi che i guadagnieri lei sudae, e resto senza fiamma insomma, Lei è riuscita come un'anà, senza mai aver pensato, perché lei mantiene tutta la famiglia. Ad esempio, altri riusciti faranno una posizione, all'è vera, lei va insieme al barone. L'età c'è un momento, è un grosso investimento, sono fidati e cercando per un'agenzia. che mi diceva che arriva a una certa età, e la piazza è lenta, è avuto un'anà. E in questo momento sono spariti, è la storia che ti dico, è la storia quando i grani sono finiti. è un elemento, l'ontrazione. È un elemento, l' buried'unico, è un personaggio, è un perfetto. Uno diceva che non si tratta la sua prima aiuta. Grazie a tutti